L'ipotesi di reato e di truffa aggravata ai danni della regione Puglia per aver percepito illecitamente un finanziamento derivante da fondi europei. Il gruppo del tribunale di Trani, Ivan Barlapante, ha rinviato a giudizio quattro imprenditori, tre tranesi ed un margheritano, vale a dire illegale rappresentante della Torelli SRL e i suoi tre soci, accusati di aver prodotto falsi preventivi di spesa e fatto risultare investimenti fittizi al fine di poter partecipare con successo ad un bando regionale ed ottenere quasi 800 mila euro di fondi europei destinati al settore della pesca. La società Torelli, fallita nel 2018, aveva un'importante attività di acquacoltura e stabilazione dei mitili nell'omonima Sciala di Trani, sul lungomare Cristoforo Colombo, luogo divenuto negli anni un rudere abbandonato che potrebbe presto riprendere le attività interrotte grazie alla recente acquisizione da parte della società Micmar. Le quattro persone coinvolte nel caso Torelli dovranno rispondere di analoga presunta truffa relativa ad un'altra società, questa volta bicegliese, la Bimar SRL, sempre attiva nel campo della depurazione, trattamento e commercializzazione di prodotti ittici, che anche in questo caso avrebbe ottenuto finanziamenti destinati al settore della pesca per circa 720 mila euro, grazie a preventivi di spesa fasulli e false fatture. Se in tutto gli imprenditori rinviati a giudizio il processo inizierà il 13 marzo, la Regione Puglia si è costituita parte civile.